Ciao a tutti, sono sempre da Abu Dhabi, la conferenza interparlamentare del WTO. Come vedete uno dei temi, ve l'ho già detto, è l'accordo sulla pesca che è stato deciso lo scorso anno e che vede alcuni paesi averlo già ratificato. Attenzione, ratificato non significa applicato già nel suo concreto, sapete come l'Europa sia il luogo del mondo che ha regole molto restentive nei confronti dei propri pescatori e questo non va bene, non va bene perché siamo un mercato aperto che riceve invece da tutto il resto del mondo un pescato che non è preso in maniera sostenibile e soprattutto da paesi che sovvenzionano tantissimo, anche più di noi, la propria economia della pesca. In questa settimana avremo negoziato ulteriore per andare avanti con una modifica, un ulteriore sterco di questo accordo, ma il tema è che partiamo da buone intenzioni, accordi che vogliono estendere agli altri paesi certe buone regole, ma se questo non avviene poi in concreto potrebbero essere un po' intelligenti e proteggere e tutelare la nostra realtà. Il Mediterraneo rischia di essere uno dei luoghi dove anche questo accordo, anziché creare politiche virtuose nel limite ulteriormente, questo non va bene, non fosse altro perché il consumatore oggi in Europa non riesce nemmeno a riconoscere l'origine del pescato che arriva verso il lato pericolo. Su questo e su altri temi credo sia più importante concentrarsi e essere presente qui è decisivo in questo senso.